Musica Ragazzi, io sono un pochino, non so, in inglese direi disappointed, non mi viene in italiano una parola giusta Sono deluso, sono deluso da queste nuove armi perché, porca misera, Twin Basalk, va bene Ok, il nome magari può anche essere vagamente figo Ma partiamo dalla base, anzi usciamo dall'arsenale, per una volta facciamo una cosa diversa Andiamo nel mercato e vediamo come si fanno queste robe Al di là che le potete prendere con 185 platino già complete, catalizzate eccetera Vabbè, se volete spendere 185 platino fatti i vostri, ma almeno guardate prima tutto il video per decidere Andiamo a prendere lo schema di queste fantastiche doppie asce Eccolo qua, 15.000 crediti, 15.000, oh, costa meno dello schema dei tecco del tippedo, cioè, bella lì Ok, andiamo a vedere Ci vogliono le Dual Zoren e un Atomos per farle Ora, è vero che queste daghe fanno danno da fuoco, però insomma, dover inserire una pistola da danno da fuoco Per riuscire ad ottenere delle asce da fuoco, boh, mi sembra un po' esagerato Comunque, quindi Dual Zoren e Atomos Dual Zoren, dove sono le Dual Zoren? Eccole qua, 15.000 crediti Poi c'è anche il costo del craft, che sono altri 30.000 E l'Atomos, francamente non mi ricordo, ah sì, è sempre da qua 30.000 crediti più 60.000 di craft Cioè, insomma, ragazzi, queste doppie asce vi vengono a costare una follia Veramente, un occhio dalla testa Soprattutto vi fanno distruggere l'Atomos, che è un'ottima secondaria, che io ho adorato E la utilizzo tuttora, è molto, 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 molto divertente Oltre a fare un buon danno Per ottenere delle asce che fanno di base, ragazzi Adesso andiamo a vedere 45 danni da fuoco base Cioè, pochissimo Oltretutto, quest'arma, ragazzi, viene indicata come arma da status Perché ha, di base, 25% di probabilità di status chest di effettuare un effetto sul nemico Quindi, abbastanza buona Velocità di attacco base, ragazzi 0.833 Ma scusatemi, ma stiamo parlando di asce ad una mano sola Quindi asce piccoline, si suppone leggere, maneggevoli Doppi asce, quindi dual welding Dual wielding Due armi singole impugnate ciascuna in una mano Dovrebbero essere armi veloci Ma poi, se un'arma non punta sul critico Al di là che dovrebbe avere un danno base un po' più alto, secondo me Ma se punta sull'effetto L'effetto, ragazzi, funziona anche in base al nostro ratio di fuoco Come anche il critico In base al ratio di fuoco o alla velocità d'attacco Nel caso di un'arma corpo a corpo Perché più velocemente attacco Più è facile che io riesca ad effettuare il mio stato Se ho 25% di probabilità Sì, è abbastanza buono Ma se attacco più lentamente di un colpo al secondo Pur avendo due asce in mano Non è sta gran cosa Francamente non è sta gran cosa Quindi andiamo a vedere come le ho moddate Come ho provato a moddarle Ma in realtà adesso farò delle modifiche fin da subito Dunque No, le modifiche le ho già fatte Non mi ricordavo Comunque Swirling Tiger Secondo me va benissimo come stance Quindi l'unica cosa buona e certa che posso dirvi è lasciate tranquillamente questa stance che ci sta Pressure point, ragazzi, ci vuole In modo indispensabile Una cosa però che io non mi sono sentito di mettere Ci ho provato ma non ce l'ho fatta È Spoiler Strike Perché? Perché ci dà un malus in velocità di attacco Quest'arma, io ve l'ho detto, è già lenta come la fame di suo Se ci mettiamo pure Spoiler Strike È vero che con Fury poi Ottimizziamo un po' Ma di norma io Fury più Spoiler Strike Lo faccio quando Ottimizzando Quel meno 20 più 30 Di queste due mod Mi fa arrivare almeno a un colpo al secondo Abbastanza pieno, no? Su quest'arma non lo si può fare Perché è veramente troppo lenta di base Vedete bene che mettendo Fury Senza avere Spoiler Strike Io ho una velocità di attacco di 1.08 Cioè a fatica raggiungo il colpo al secondo con Fury Quindi è un'arma estremamente lenta Non essendo critica non possiamo mettere neanche Berserker Quindi questa è la velocità che ha di base Diciamo con Fury un colpo al secondo E questa è la velocità che ci terremo Salvo buff particolari ottenuti in gioco Come ad esempio il War Cry di Valkyr Quello che ci può stare Però insomma di base è lentissima Cosa ho fatto? Ho inserito in mode elementali Chiaramente come sempre per far la prova Ho messo una build corrosiva Ho abbondato di mode elementali Ho fatto corrosivo più fuoco Poi ho aggiunto altre due mode Elettrica e tossina Per creare, per aumentare ancora di più corrosione Ma anche per aumentare la probabilità di status Perché detto se quest'arma gioca di status Vediamo di puntare un po' su sto status Quindi l'ho portata a 55% Un colpo su due Il che significa Se comunque siamo fortunati Un secondo riusciremo ad effettuare l'effetto Secondo dopo no Un secondo sì Un secondo no Perché comunque facciamo un colpo al secondo Life strike Qua non lo so ragazzi È un po' dura decidere Io francamente se potessi Lo eviterei Cioè se so di andare con una Trinity O ad esempio adesso sono con Oberon Potrei anche dire Non metto life strike Per aumentare un po' i danni Perché capiamoci Guardate qua che danni c'ho C'ho vabbè Arrotondiamo 300 Più Vabbè esageriamo un po' Più 200 Arrotondiamo ancora un po' per eccesso C'ho 500 danni in croce In croce senza possibilità di critico Con una lentezza disumana E l'unica cosa buona È poter effettuare l'effetto Per cui dico Sì vabbè riesco a effettuare corrosivo Sono contro un grenier Quindi piano piano Una volta che lo colpisco Io gli tolgo l'armatura Ma questo è un problema Piano piano Perché abbiamo un colpo a secondo Non lo so Vorrei non dire che quest'arma Secondo me è una merda Ma secondo me è una merda Quindi non so veramente In che altro modo definirla Possiamo provare magari Veramente se andiamo per dire con Oberon A togliere life strike A metterci qualcos'altro Ma Oberon Chi lo usa Voglio dire Sì vabbè Non voglio scatenare flame Qualcuno lo usa Anche a me piace Non preoccupatevi che mi piace Oberon Però in generale Life strike La si utilizza perché è utile E quindi io Ce la lascio su Anche a costo di perderci Parecchi danni Qui i danni li perdiamo Sia perché non abbiamo messo Spoiler strike prima Sia perché appunto Ci abbiamo life strike Quindi non Non riusciamo ad aumentare Un po' di più Ma il problema di base È che appunto I danni mancano Alla base Alla radice Per cui possiamo mettere Tutte le mod che vogliamo Ma quest'arma Secondo me Fa poco danno Ed è lenta Ragazzi Per farvi vedere Queste armi Sono venuto qui A simulacrum Per farvi vedere Un paio di scenari Dunque Se noi andassimo Ad affrontare Un qualunque nemico Attorno al livello 30 Comunque lo tireremo giù Senza grossi grossi problemi Perché comunque Per quanto l'arma Non abbia dei danni eccellenti In un livello medio Nel livello Praticamente Medio di tutte Le missioni presenti Sulla mappa stellare Quindi anche quella Di livello un pochino Più alto I nemici Non raggiungono Il livello 40 O comunque Lo raggiungono Appena appena Per cui Quest'arma In quelle missioni Se la cava Il punto è Ma vale la pena Poi portarcelo Magari se andiamo A fare Void Andiamo a fare Lung survival Lunghe difese Andiamo dove Comunque arrivano Nemici di livello Particolarmente alto Ma andiamo a vedere Come si comporta Mettendo ad esempio Mettiamo un heavy gunner Mettiamo un antico Andiamo a mettere Un paio di butcher Facciamo Ricreiamo uno scenario Diciamo da void Andiamo a mettere Facciamo Tre lancer Poi andiamo a metterci Anche un paio di Facciamo Trek human Abbiamo creato Un gruppo Diciamo verosimile Che si possa trovare Nel void Livello nemici 50 magari no Facciamo un qualcosa Di poco più Della difficoltà base Quindi mettiamo Livello 40 E vediamo Come si comportano Queste armi Andiamo ad affrontare Questo drappello Di nemici Il danno da fuoco Sicuramente Ci aiuta Nel momento in cui Riusciamo a proccare Il suo effetto I butcher Non sono particolarmente Resistenti Dobbiamo assolutamente Sfruttare chiaramente Le coperture Che la mappa Ci offre Perché non possiamo Affrontare nemici A viso aperto Vedete già Su Livy Gunner Facciamo una certa Fatica A buttarlo giù Se non entra Lo status Da fuoco Che ci blocca L'avversario Insomma Scattano fuori I problemi Sono con Oberon Che comunque ragazzi È piuttosto resistente Ricordiamoci che Per quanto sia poco usato È comunque un tank Dunque Dunque Vedete Sono riuscito Effettivamente A farli sacchi tutti Non ho inserito Un bombard In questo gruppo E quello sarebbe Stato un bel problema Perché tendenzialmente Essendo deboli A radiazione Avendo io Ora corrosivo Non sarebbe stato Facile buttarlo giù Sono riuscito A ucciderli Ma Il punto è Che se l'avessi fatto Con qualunque Altra arma Se l'avessi fatto Con armi di punta Come le due Al Aicor Ma anche se l'avessi fatto Con il mio Loki Invisibile Con un Orthos Prime Se l'avessi fatto Con una Dragon Nikana L'avrei fatto Molto più rapidamente Secondo me Con più efficienza Rischiando Molto meno Ora Io ho detto Che sono armi Praticamente di merda In realtà Diciamo che Finché il livello Della missione Non sale troppo Sono utilizzabili Sono sfruttabili Il punto è Quanto ci costano Vi ho fatto vedere Prima che ci costano Veramente Un occhio della testa Ci costano due armi Che sono di per sé Bellissime Le due Azoran Secondo me Sono due asce Che di base Sono stupende Le andiamo a fondere Con un Atomos E l'Atomos Di per sé Anche una secondaria Bellissima Andiamo a sprecare Un sacco di crediti E tempo Per avere delle armi Che Sono belline esteticamente Avete visto Che comunque I nemici Riescono a ucciderli Però Non hanno Quella marcia in più Che ci si aspetterebbe Non possono crittare Non hanno Un danno base Particolarmente elevato Puntano sullo status E non lo so Se vi piace giocare di status Se vi piace mettere Le stack di corrosivo Per demolire le armature Dei nemici Se vi piace dar fuoco Ai nemici Se vi piace avvelenarli Con tossina Possono anche funzionare Non mi sento Non mi sento di scartarle Completamente Però ci costano Veramente tanto Se io guardo Quello che danno In proporzione A quello che costano Sono delle armi Che non Non mi sento Di consigliarvi Per cui ragazzi Non sto a provarle Di più Perché a me non piacciono Non piacciono Non ci voglio perdere tempo Questi sono i consigli Che vi posso dare Se proprio Volete farli Per mania di collezionismo O perché Mi piacciono tantissimo Le armi da status Va bene Fatele Sono veramente belline Anche di estetica Ci stanno Però non le capisco Non le capisco Avere tanto status Per non avere Né area d'effetto Né un po' di attack speed Non lo so Non mi convincono appieno E questa è ragazzi La mia opinione In definitiva Su quest'arma Le twin basal Che a me non convincono Al 100% Spero che prima o poi Un fix o qualcosa Le modifichi Le baffi leggermente Per andare a giustificare Il costo così elevato Che richiedono Quindi ragazzi Direi di chiudere il video qui Io vi saluto Vi invito come al solito A mettere un mi piace Se vi è piaciuto il video Vi invito a iscrivervi al canale E andare a cercare Death RPG Su Facebook Vi saluto E vi aspetto al prossimo video Ciao a tutti